L'avvocato della famiglia Vannini, Franco Coppi, ha ricostruito oggi 16 settembre in aula, con dovizia di particolari, la notte del 17 maggio 2015 in cui Marco perse la vita. L'obiettivo era quello di spiegare perché Antonio Ciontoli meriterebbe una pena a 14 anni di reclusione richiesta dal PM. Il penalista si è espresso in questi termini. Il fatto sarebbe doloso, ma di fronte a una situazione non letale in cui non si interviene, diventa doloso. Ciontoli ha sparato, se ne ha reso conto e ha fatto di tutto per nasconderlo. La difesa potrebbe obiettare che non vedendo un foro d'uscita si tratti di una ferita superficiale e quindi curabile in farmacia, ma Martina ha rilevato il bossolo con la ciste, quindi non c'era da tranquillizzarsi. Marco ha reagito urlando per un'ora. Le urla sono state udite dall'operatrice del 118 e da tutti i vicini. Come poteva pensare di far passare tutto con acqua e zucchero?